Uniswap lancia su Optimism che è un layer 2 sempre su Ethereum e quello che vi sto facendo vedere questo video che va in loop qui su questo blog appunto di Uniswap è un sample di come saranno gli scambi, gli swap su questa nuova versione e guardate che velocità però questo non basta perché voglio proprio provarlo anche io quindi in questo video voglio provare subito è il day one perché siamo proprio al lancio dell'alpha version, della primissima versione quindi già qui il primo disclaimer è appena stata lanciata ci sono ancora delle cose che probabilmente non andranno benissimo, qualche bug, qualche rallentamento, poche monete però questo è l'inizio di un qualcosa di veramente grande allora iniziamo dall'articolo che ci fa anche Cointelegraph Uniswap versione 3 ovviamente lancia su Optimistic Ethereum Layer 2 in versione alfa quindi loro stessi ci dicono per favore trattiamo questa versione come un prodotto alfa c'è ancora tanto da fare e arriverà in modo iterativo con uno step dopo l'altro ci sono ancora un set limitato dopo lo vedremo Ether, USDT, Wrapped, BTC, DAI e Synthetix questi sono i primi e cosa succede? Qual è la cosa principale? praticamente assumendo che ci sia uno stesso utilizzo di Uniswap versione 3 anche su Optimistic quindi facciamo il caso in cui gli stessi volumi, gli stessi scambi, le stesse transazioni che avvengono adesso su Uniswap versione 3 venissero fatte su Optimistic dovremmo vedere un costo inferiore di 10 volte ovviamente però questo porterebbe anche a un aumento della domanda e quindi aumenterebbe anche il costo del gas questo è il paradosso di Jervons che ci dice questa è una tesi che nasce dall'osservazione dell'economista William Stanley Jervons secondo cui i miglioramenti tecnologici che aumentano l'efficienza di una risorsa possono fare aumentare il consumo di quella risorsa anziché diminuirlo penso proprio che in questa prima fase è diminuito talmente tanto il costo su Layer 2 che effettivamente anche se la domanda aumentasse dovrebbe aumentare di 10 volte a quel punto vorrebbe dire che avremmo avuto un bel boom sia su Exchange decentralizzato sia su Ethereum ma in generale proprio nell'utilizzo delle cripto penso che ci vorrà un po' per far conoscere alle persone questa tecnologia Distractive perché è veramente un qualcosa che cambia i giochi allora qui c'è il link al tweet e vedremo che è veramente istantaneo adesso fare gli scambi questo nuovo supporto sarà ovviamente integrato anche e compatibile con Ethereum 2.0 quando questo arriverà e arriverà praticamente una soluzione di scalabilità sull'altra un po' il discorso fatto anche per Matic e Polygon in questo video voglio farvi vedere subito la pratica quindi non mi soffermerò troppo su come funziona il sistema Optimistic Rollup che in realtà vorrei approfondire un po' di più anche per far capire quali sono i veri problemi sulla scalabilità e spiegare cos'è la scalabilità magari approfondisco tutto in un prossimo video però qui che cosa cambia? che grazie alla zero knowledge a un consenso a zero knowledge il principio è che si assumono le transazioni tutte verificate quindi già tutte corrette e gli utenti intervengono solo se queste sono incorrette e si può sottomettere una fraud proof per segnalare che il dato è incorretto prendetela con le pinze il sistema è veramente complesso altrimenti non ci sarebbe voluto così tanto tempo relativamente così tanto del tempo diciamo per svilupparlo in DeFi già Synthetix si era spostata su Optimistic come layer e adesso vediamo che cosa porta questo miglioramento troviamo il tweet direttamente da Uniswap Labs e anche ovviamente da Optimistic e ci fanno vedere quello che è il blog con l'annuncio quindi da qui ho iniziato vi faccio vedere questo video ma come detto lo proviamo anche noi porterà scalabilità non ci sarà bisogno di pagare gas per approvare token e non andrà ad intaccare quella che è la decentralizzazione siamo sempre su Ethereum e a differenza del layer 1 le transazioni verranno confermate istantaneamente non ci sarà più attesa per fare gli swap quindi arriverà subito la conferma ci sembra un sogno adesso veramente lo vediamo come funziona? qui sono su Uniswap versione 3 però lo vedete uguale infatti è uguale perché questo è quello collegato a layer 1 di Ethereum quindi sono ancora con il mio Metamask connesso e sono sulla rete Ethereum principale per andare su rete Optimistic bisogna cambiare rete perché è un layer 2 quindi è un'altra rete come abbiamo visto in un tutorial che vi ho fatto vedere per Matic abbiamo anche la stessa cosa con Optimism Mainnet selezioniamo questa rete proprio come facciamo quando andiamo magari sulla Binance Smart Chain è lo stesso concetto però questo è un livello superiore ad Ethereum mentre invece la Binance Smart Chain è una catena compatibile con l'Ethereum Virtual Machine e questa è la differenza allora andiamo su Optimistic Mainnet e a questo punto apparirà l'interfaccia in modo diverso siamo connessi a Optimism abbiamo la connessione al Gateway che adesso vi faccio vedere c'è l'EtherScan proprio per questa rete e poi informazioni oppure per poter tornare alla Mainnet Layer 1 cosa che comunque possiamo sempre fare dal nostro Metamask se non vediamo l'opzione per aggiungere in questa lista degli RPC delle reti Optimism Mainnet vi lascio una guida in descrizione questa guida ce la lascia direttamente Uniswap quindi abbiamo sia la guida come depositare token su Optimism e sia come connettere Optimism vi lascio questa ripeto in descrizione perché ci fa vedere come fare basterebbe aggiungere in modo custom questa RPC e aggiungere questi dati potete anche prenderli direttamente da questo video quindi fate qui reti andate su RPC personalizzata inserite in questi campi questi dati qui fate salva e vi apparirà se non avete voglia di farlo andate sul link che vi metto in descrizione aprite questa pagina cliccate qui clicchier si apre un'altra pagina e da qui basterà fare connect e praticamente si aprirà ancora una volta il nostro Metamask con le impostazioni adesso già l'ho fatto e ci porterà tutto su rete Optimism quindi due opzioni fatto ciò siamo su Uniswap con il layer Optimism e possiamo fare i nostri scambi attenzione però qui adesso leggiamo saldo 0.05 Ether perché? perché ce li ho messi io altrimenti non ne avremo non basta avere Ether sul nostro indirizzo perché se io andassi qui sul mio account vedrei a 0 se non ho mai fatto uno spostamento come bisogna fare? bisogna fare un deposito e qui direttamente dalla pagina direi che questa è la cosa più pratica si può andare direttamente qui deposito Optimism si apre il Gateway adesso qui mi dice cambia network perché io già mi sono connesso a quella diciamo Optimism se noi andiamo su questa pagina gateway.optimism.io andremo su questo scambio e praticamente a che serve? questo è un channel qualcosa che in altri contesti viene chiamato Bridge per depositare i nostri token dalla mainnet all'Ottimistic Ethereum quindi ad esempio qui in mainnet adesso nel portafoglio Ethereum rete principale ho due centesimi di Ether se volessi depositarli dovrei selezionarli e poi andare a fare deposita attenzione questa fase ancora richiede le commissioni su Ethereum essendo in questo momento comunque anche il gas un po' alto a me non basterebbe fare max perché mi chiederebbe comunque qualcosa per pagare le commissioni io questo processo già l'ho fatto ho già spostato 0.05 quindi 5 centesimi di Ether pagando le commissioni sulla rete Ethereum e trovandole su Optimistic Ethereum una volta che sono su Optimistic Ethereum però non pago più le commissioni di Ethereum pago commissioni infinitesimali sono bassissime se voglio invece fare il contrario quindi prelevare il mio balance che lo vedete qui in alto da Optimistic 5 centesimi eccolo qui e portarlo su mainnet quindi riportarlo su Ethereum dovrei fare withdraw attenzione però è stato appena lanciato quindi in questa fase alpha bisogna aspettare una settimana per poter riportare i token che spostiamo dalla mainnet che vuol dire ripeto per essere ancora più chiaro per non avere incomprensioni se spostate qualcosa per provare adesso Optimistic Ethereum per questa cosa per fare questo swap per riportare indietro quello che swappate dovete aspettare una settimana perché? perché siamo in fase alpha dopo non ci sarà più questa attesa al momento è così quindi per fare il passaggio inverso c'è una settimana di attesa quindi non fatelo se non volete aspettare io l'ho fatto perché? perché mi piace testare mi piace giocare con queste cose e farvele vedere il prima possibile detto ciò ho tutto pronto torno quindi appunto su la rete Optimism ho i miei 0.05 Ether e adesso non vedo l'ora di testare per la prima volta anch'io uno swap che cosa posso fare? posso scambiarli per come abbiamo visto solo 5 token al momento quindi DAI Synthetix USDT Wrapped BTC direi di scambiarne un po' per Wrapped BTC questo perché? perché oggi è sceso un po' tutto sta scendendosi Ether che Wrapped BTC questa è la rappresentazione wrappata sulla rete Ethereum di Bitcoin diciamo che non scambierei Ether per stablecoin in questa fase di ribasso così giusto per fare un test è una cosa un po' più complicata ma lo faccio comunque con un quantitativo molto piccolo diciamo voglio scambiare 19 dollari cosa che non farei mai sulla rete Ethereum perché per scambiare 19 dollari magari mi costa di più di commissione di quanto scambio quindi faccio un centesimo di Ether otterrei questo quantitativo di Wrapped BTC l'equivalente sempre di 19 dollari c'è un minimo di commissione nello scambio i dettagli sono comunque tutti qui quello che voglio farvi vedere è la differenza che avviene sulla rete cioè quello che è il costo di rete infatti il tasso di conversione qui come gas fee addirittura non è disponibile perché il costo mi viene questo 0.000483 Ether questo è quanto andrò a pagare di commissioni quindi un qualcosa di bassissimo confermo e guardate che spettacolo guardate che bello lo swap è già avvenuto io trovo i miei Wrapped BTC già scambiati quindi se dovessi selezionare appunto Wrapped BTC potrei già vedere che sono qui e andando anche a vedere appunto su Metamask mi troverei l'equivalente di Wrapped BTC qui su rete Optimism e in un attimo ho fatto lo scambio ripeto adesso questa è una versione alfa per portare questo equivalente sulla rete Ethereum dovrei fare il processo inverso tramite il gateway e il passaggio indietro non posso farlo per una settimana perché appunto è appena arrivato ma la velocità di questo DEX adesso è competitivo a livelli estremi non c'è neanche un exchange centralizzato che riesce a fare una cosa altrettanto efficace efficiente e siamo solo all'inizio questo fa partire veramente la sfida a qualsiasi altra rete a qualsiasi altra struttura che sta sviluppando smart contract che sta sviluppando strutture con exchange decentralizzati perché fare meglio di questo al momento è veramente difficile considerato anche appunto l'effetto rete che è già Ethereum ha e con questa soluzione praticamente ne vedremo delle belle da qui a fine anno il tutto considerate che diventerà sempre più intercompatibile con tutti gli altri progetti in DeFi il layer 2 la soluzione Optimism è già stata adottata ad esempio da Synthetix il tutto verrà interconnesso e si andrà ad unire a tanti altri protocolli ad esempio anche quello di Polygon ci sarà una multicompatibilità con tantissime altre cose che permetteranno la scalabilità mantenendo quella che è la decentralizzazione proprio su questo argomento vi inviterei ad approfondire tutto quello che riguarda l'Ottimistic Rollup e cosa vuol dire decentralizzazione scalabilità in questo articolo veramente ben scritto di cui comunque vorrei fare un approfondimento ma intanto ve lo lascio in descrizione grazie per l'attenzione mi raccomando provate queste cose solamente se siete sicuri di quello che state facendo e considerate il fatto che siamo in una versione alfa grazie per l'attenzione